Torniamo a parlare di un tema a noi molto caro, l'emergenza educativa che vede che è protagonista in questi dieci anni, dal 2010 al 2020. Noi torniamo a parlarne con un amico di Teleradio Padre Pio che torna ovviamente a trovarci, il professor Luciano Riccardi. Ben trovato. Grazie. Con te, ormai vedendo la tua faccia, la si associa a questo tema, almeno per quanto ci riguarda nel nostro spazio. Poi ovviamente tu sei a contatto sempre con i giovani, quindi in diversi altri momenti ti ritroviamo anche qui nei nostri studi. In nostra compagnia c'è anche un'altra insegnante di religione ed è Alessandra Gatta, benvenuta. Grazie, buonasera. Grazie a te per essere qui. Sono qui entrambi per presentarci ovviamente un progetto, se vogliamo chiamarlo così, poi in sostanza forse non è nemmeno tanto un progetto, insomma. È una linea che seguite voi insegnanti di religione, un percorso, esatto, che seguite proprio per capire meglio i giovani, per aiutarli, sostenerli in questo cammino, anche un cammino in crescita. Vederli immaturare, aiutarli in questo percorso è fondamentale, forse è il compito principale che hanno gli insegnanti, a maggior ragione gli insegnanti di religione. Luciano, oggi cosa ci proponi? Sì, innanzitutto abbiamo trovato l'occasione quest'anno di convocare tutti gli alunni delle scuole secondarie di Manfredonia per augurare loro alla presenza del Vescovo un buon anno scolastico. Ma è diventato l'occasione per metterci in ascolto di questi ragazzi, alunni, che spesso non vengono presi nella giusta considerazione. Per cui sì, ascoltiamo le loro richieste, ma in un modo molto, direi, superficiale. Non prestiamo quell'attenzione dovuta per saper poi interpretare le loro richieste, le loro attese, le loro speranze, in un mondo che purtroppo non sta offrendo molte certezze, anzi, disagio. Per cui, ecco, l'adulto dovrebbe, non tanto, come dicevamo anche in qualche altra trasmissione, limitarsi a dare delle semplici ricette e poi prendere le distanze, ma l'adulto dovrebbe, in giusto qual modo, assicurare la sua presenza, diventare compagno di viaggio in questo percorso, in questo cammino. Però alla fine deve essere il ragazzo, l'alunno, che nella piena sua autonomia e libertà decidere per un ideale, per un valore, per una strada. In effetti, forse proprio questo è l'errore principale che fa l'adulto. Dà delle direttive, dà dei consigli ai ragazzi e ai propri figli e poi li lascia camminare da solo. È vero anche che hanno bisogno di strumenti, piuttosto che qualcuno che gli dica sempre cosa fare e cosa non fare. Tu che sei a contatto, forse, con i bambini un po' più piccoli, quindi in un certo senso vedi il mondo un po' diverso da quello che vede forse Luciano, che ha a che fare con i ragazzi un po' più grandicelli. Sicuramente i bambini sono molto più positivi rispetto ai giovani, sia nell'accogliere determinati messaggi, ma anche determinati atteggiamenti. Il problema dei giovani sta nel fatto proprio che l'adulto dà dei consigli, però dopodiché comunque il giovane si sente ugualmente solo, abbandonato a se stesso. Cioè l'adulto si dovrebbe comunque trasformare ad accompagnatore, un accompagnatore invisibile comunque, perché alla fine è comunque il giovane che deve realizzare la propria vita. Però una presenza, una guida o comunque avere una consapevolezza che c'è una presenza nella propria vita renderebbe il giovane sicuramente più sicuro del proprio cammino, delle proprie scelte. Alessandra, tutte le insicurezze che hanno i ragazzi, visto che tu stessa lo sottolineavi adesso, dipendono effettivamente dagli adulti, dalle paure e dal vissuto degli adulti. Ahimè sì, purtroppo dobbiamo dire che molti dei disagi che oggi i ragazzi comunque stanno affrontando dipendono molto dagli errori di noi adulti. Io mi metto comunque ovviamente, mi coinvolgo in questa... perché purtroppo spesso noi li abbiamo comunque colpevolizzati di tanti errori, di tanti atteggiamenti, però forse i loro atteggiamenti, anche il loro stesso silenzio, non è altro che una richiesta di aiuto, di un disagio dovuto da situazioni comunque create dalla società, composta comunque da adulti. E in effetti è vero, Luciano, questo che dice Alessandra, però non c'è una specie di contraddizione in questo. Abbiamo spesso detto nei nostri incontri, quando prendevamo in considerazione gli orientamenti pastorali, le linee guida, che il ragazzo ha bisogno di una testimonianza di vita cristiana, ovviamente, da parte dell'adulto. Se questa testimonianza però si contrappone a quello che poi dovrebbe dare, trasmettere ai ragazzi, non è poi una cosa così positiva, visto che trasmettono queste paure, queste insicurezze, queste incertezze per il futuro. Loro hanno bisogno di testimonianze credibili, cioè di persone che, anche sbagliando, si sforzano comunque di rischiare, di provare ad essere coerenti con quelle idee o con quelle parole che poi vengono in un certo qual modo riferite ai ragazzi. Mi veniva, mentre stava parlando Alessandra, un flash di questi giorni. Ho avuto modo di proporre a scuola il film Sette chilometri da Gerusalemme. La dice lunga su tutta la vicenda del protagonista, che è un adulto che si è lasciato prendere, plasmare da una cultura fortemente materialista, dando poco spazio a quei valori, a quelle realtà che più delle volte dovrebbero se le prioritare rispetto a tutt'altro. Per cui, se l'adulto non comincia, lui per prima, a dare priorità alle cose, direi, autentiche, belle, genuine, valoriali, rischia poi di essere uno dei tanti modelli fasulli che il mondo continua a proporre e che il ragazzo il più delle volte prende in maniera errata come stile. Noi abbiamo qui, questa è una sorta di introduzione all'argomento, però ovviamente adesso andiamo un po' a scavare, partendo da un articolo presente su Voci e Volti, che poi è una rivista diocesana, della nostra diocesi, che presenta appunto un articolo, meglio, la testimonianza di una ragazza, che ovviamente si fa portavoce di tanti altri ragazzi che vivono la stessa situazione. Ed emerge una parola su tutte, silenzio. Poi ovviamente c'è amore, ascolto, sogno, domanda, risposta. Ai ragazzi sostanzialmente manca probabilmente l'ascolto da parte degli adulti, no? Ma da parte loro c'è anche il silenzio. Cosa possono ascoltare gli adulti se manca il silenzio, Alessandra? Allora, il problema del silenzio da parte del giovane può avere un duplice aspetto. Il silenzio come segno di un disagio. Quindi i ragazzi si nascondono, ad esempio, con i social network, che vanno tantissimo ora di moda, Facebook, Twitter, e hanno quella difficoltà a interagire, interloquire con i loro coetanei, ma anche con gli adulti stessi. O il silenzio, inteso come, in senso, diciamo, positivo, come chi cerca di riflettere su se stesso, chiedendo comunque l'aiuto all'adulto, però molto spesso l'adulto non coglie questa richiesta di aiuto. Quindi a quel punto il silenzio si tramuta nel giovane in una sorta di alienazione. Cioè, abbandonandosi a se stesso, non sa che strada percorrere. Non ha quella guida, di cui parlavamo prima, invisibile, che comunque lo dovrebbe, quanto meno, dovrebbe quanto meno indicare loro un sentiero, una strada da percorrere di fronte a determinate realtà che purtroppo sappiamo oggi la società presenta. Quindi, alla fine, come abbiamo spesso detto, il problema dell'emergenza educativa nell'emergenza educativa è più che altro degli adulti, degli educatori. Sono loro che vanno un po' recuperati. Sicuramente il primo problema emerge nella famiglia. Il nucleo, per essere, diciamo, principale dei ragazzi è la famiglia. Il genitore che oggi risulta essere incapace, alcuni genitori sono talmente tanto presi dagli impegni, dal lavoro, dalle difficoltà e dalle ristrettezze economiche dei nostri tempi che tutti purtroppo stiamo affrontando, dimenticando reali problemi che magari in ogni casa ci sono. Quindi questi disagi giovanili del silenzio, del giovane che ha bisogno di aiuto e il genitore non si rende conto di questa richiesta di aiuto. ma anche nelle scuole. Molto spesso, io sono un'insegnante, molto spesso l'insegnante deve terminare la sua programmazione, c'è la votazione, cioè si guardano a tanti aspetti comunque perdendo il punto di vista, il soggetto che è l'alunno, la persona alunno. Allora può sorgere spontanea una domanda, magari a questo può rispondere Luciano, che è un po' più anziano di noi, diciamolo. Luciano, cos'è che manca agli adulti, visto che ha delle mancanze nei confronti dei propri figli? Agli adulti, una manifestazione che sta venendo meno un po' di sapienza, di buonsenso, perché gli adulti corrono troppo, vogliono dare delle regole e poi si aspettano subito che il ragazzo, l'alunno le debba subito mettere in pratica. Invece no, deve aspettare i tempi dell'alunno, del ragazzo, che piano piano devono innanzitutto comprendere in pieno che cosa per lui può significare vivere secondo certe regole, certe indicazioni. Nel momento in cui il ragazzo avrà fatto propria quella disposizione, allora non avrà più bisogno dell'adulto che sistematicamente gli dovrà ricordare che bisogna comportarsi in una certa maniera, perché lui l'ha accettata come un valore prezioso per la sua vita e per cui sarà uno stile di vita, non un ordine da eseguire, perché questo fa innervosire e scattare con una reazione che non è quella richiesta. Giusto. Vogliamo puntare poi l'attenzione su un'altra parola chiave, il silenzio, come dicevamo prima, però visto da un altro punto di vista, perché poi alla fine oggi i ragazzi ci sembrano che siano invece frastornati da tanti suoni, da tanti rumori e forse è anche questo un modo per risolarsi, no? Allora... Per non ascoltare. Sicuramente il frastuono di cui si circondano non è altro che un escamotage per non sentire il frastuono che hanno dentro. Pensiamo, insomma, a tv, radio, ma tante altre cose che comunque impediscono al giovane di guardare effettivamente a quel frastuono interiore. Quel frastuono interiore che comunque fa loro tanto male, perché non è semplice dire quello che si ha o si si prova, quindi alla fine è meglio non pensarci, è meglio comunque circondarsi di tanto frastuono fuori per evitare di sentire quello che si ha dentro. È una sorta di terapia che... Diciamo d'urto. Si autoiscrivono. Esatto, purtroppo sì. Di fronte a questo l'adulto dovrebbe essere l'interprete, l'adulto dovrebbe diventare l'interprete di tutto questo disagio, di questo frastuono interiore e fare in modo che questo frastuono non porti nel giovane all'avere paura di pensare a se stesso, di riflettere, ma anzi deve trovare il coraggio di poter riflettere, di anche avere dei riscontri con le proprie difficoltà, le proprie limitatezze, con i propri limiti e pensare quindi che non è tanto importante l'avere quanto l'essere. Cosa che purtroppo oggi la società di adulti impone tanto ai giovani. purtroppo è questo uno dei grandi difetti effettivamente che siamo, che insomma si presentano oggi. Non, senza sottovalutare insomma anche le domande di senso che una volta ci si ponevano, almeno noi adulti, domande di senso dove vengo, da dove vengo, d'onde vado, le solite domande che ognuno di noi si è posto nella vita. Questi giovani oggi lo fanno ancora? In quel silenzio di cui parlava Alessandra, in quel silenzio ogni tanto magari risuona questa domanda cosa farò del mio futuro. In questi giorni ho presentato loro un piccolo volumetto scritto da un nostro collega Michele Illiceto sui dialoghi sulla morte. Allora ponevo la domanda in classe ma voi nel momento in cui avete visitato i vostri defunti vi è venuto facile chiedervi perché la morte o perché esisto e poi non devo più esserci? Alcuni hanno detto non ci pensiamo. Mai posto. Altri timidamente hanno detto sì. Questo perché? Non è vero che loro non se le pongono queste domande. Ce le hanno nascoste. Tu educatore devi essere bravo a saperle tirare fuori perché loro possano trovare il modo e la maniera di riflettere, di pensare ma non tanto per mettersi addorso una preoccupazione quella del del primo poi morire ma invece familiarizzare con questa con questa realtà dell'esistere ma anche poi del morire per noi cristiani anche del poi ritornare alla vita un atteggiamento molto sereno molto direi tranquillo perché ci si deve veramente appropriare della propria esistenza compresa la dimensione della morte che ci appartiene cioè non è una cosa dalla quale dobbiamo prendere distanza allora bisogna aiutare il ragazzo a saperle innanzitutto porre le domande e poi anche a saperle in un certo qual modo valutare. a me piace molto ma la tiriamo fuori adesso che ci sta proprio bene la famosa maieutica socratica tira fuori così come faceva la mamma di Socrate tira fuori dal ragazzo quello che ha dentro perché è davvero un tesoro prezioso e dentro di sé i ragazzi possono riscoprire la bellezza che salverà il mondo l'ha detto qualcuno prima di noi e anche lo stesso Dostoievski insomma stavo tenendo in questi giorni un ultimo degli incontri di formazione agli studenti che hanno aderito al progetto volontariato di cui sono stati anche protagonisti qui in studio scorso sabato e proponevo loro la riflessione su un tema libertà da libertà per e i ragazzi immediatamente su un modello che io ho predisposto hanno iniziato ad elencare tutte quelle cose dalle quali prendere distanza tutte le schiavitù da superare e ce ne sono tante i condizionamenti il modo comune di vivere le cose soffocando la propria autonomia la propria libertà molto spesso loro fanno delle scelte non perché le hanno decise di loro pugno ma perché il gruppo le ha fatte e io non posso stare fuori da questa realtà per cui mi devo adeguare non è così devo diventare io protagonista della mia vita e quindi pormi in un modo diverso per essere per diventare libero per delle cose importanti utili con le quali devo essere anche capace di fare delle rinunce dei sacrifici di entrare anche in conflitto con una cultura con una mentalità che spesso viaggia in una maniera diversa a questo proposito magari Alessandra viene fuori che l'identità la caratteristica dell'identità cristiana è proprio questo andare controcorrente poi alla fine perché ormai tutti un po' si allontanano ovvero dalla fede perché la si vede come una cosa vuota come una cosa distante irraggiungibile ma infatti sicuramente la libertà ci porta poi all'incontro del 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 Gesù Cristo cioè la libertà per eccellenza però è bene comunque anche far capire comunque al ragazzo che la libertà non è il fare tutto quello che si vuole ma l'assumersi la responsabilità delle proprie decisioni cioè il saper scegliere tra ciò che è l'essere e ciò che è l'avere questo lo aveva detto già diversi anni fa anche Eric Fromm la differenza tra essere e avere insomma e quindi è questo fondamentalmente il giovane deve riuscire liberamente tramite proprio attraverso il messaggio cristiano di riconquistare la libertà che d'altronde Dio sappiamo che ha concesso all'uomo quella libertà di poter scegliere se essere o avere libertà che crediamo che giovani abbiano ma purtroppo come diceva Luciano non hanno sicuramente a causa dei tanti condizionamenti che ancora una volta il mondo composto da adulti vuoi o non vuoi vengono imposti esatto c'è da fare questo discernimento e i ragazzi dovrebbero avere gli strumenti adatti passati o comunque fatti conoscere dagli adulti e lo diciamo sempre l'educatore il compito principale è proprio questo voi in conclusione da educatori tu giovanissima Alessandra Luciano un po' meno è la seconda volta che lo sottolineiamo quali strumenti vi sentite di dare ai vostri ragazzi in qualità di educatori e di insegnanti e quali possono invece dare gli stessi genitori insomma o comunque se le due cose si intrecciano perché poi alla fine l'esperienza mi suggerisce perché non sono delle teorie ma è l'esperienza che col tempo ti suggerisce che devi eliminare tutti quegli steccati che creano la difficoltà di interagire con con l'alunno per cui sono steccati anche di tipo mentali soprattutto soprattutto mentali per cui bisogna diventare uno di loro non come loro ma uno di loro cioè uno che affianca uno che condivide ma allo stesso tempo sa aiutare a mettere luce anche in quelle situazioni dove il ragazzo spesse volte sperimenta il fallimento e vorrei tornare un attimo sulla questione del silenzio insegnare ai ragazzi il gusto la bellezza del silenzio cioè di rientrare in punta di piedi nel proprio spazio personale per riappropriarsi di se stessi per poter poi veramente mettersi in ascolto per noi cristiani di Dio che può veramente rivelare a me quello che sono e il progetto per il quale sono stato chiamato a realizzare che mi può sicuramente rendere una persona veramente realizzata migliore Alessandra io credo che noi adulti la prima cosa che dobbiamo fare è ascoltare tanto tanto ascoltare e saper leggere comunque i messaggi che i ragazzi ci inviano anche non verbalmente esatto messaggi che possono non essere verbali ma sicuramente anche comunicano attraverso degli atteggiamenti anche dall'abbigliamento stesso dal tipo di musica tanti ragazzi si dedicano comunque alla musica scrivono canzoni quindi loro comunque dei messaggi li inviano ma noi dobbiamo riuscire quindi è anche un mea culpa che noi dobbiamo comunque farci dobbiamo riuscire a capire ascoltare accogliere e interpretare una sorta di esame di coscienza che gli adulti devono farsi ovviamente voglio dire la strada è lunga noi abbiamo un po' di tempo per parlare di questo di emergenza educativa che tocca lo stiamo scoprendo piano piano più gli adulti che i ragazzi e io dovremmo solo stare a te se mi permetti sì come no lo dicevo e lo dico in maniera molto aperta in un consiglio pastorale di Giocesano ho un pochettino sollecitato ad evitare l'errore di archiviare questo problema dell'emergenza perché ci stiamo abituanti forse per moda a dare importanza a delle problematiche facendo programmi anno per anno tipo quest'anno è l'anno dell'emergenza e quest'anno mi preoccupo dell'emergenza poi metto da parte quest'anno è l'anno della fede e quindi posso correre il rischio non dico che si fa così ma posso correre il rischio di non tenere più conto perché cambiamo pagina e andiamo avanti no assolutamente anzi stiamo invece in un continuo come dire trovare come dire forze soluzioni per per venire incontro a queste necessità non sarà un caso che insomma che noi insistiamo su questo sono dieci anni e insistiamo su questo abbiamo ancora otto anni circa davanti per poterne parlare giusto un riferimento a quello che diceva prima Alessandra perché mi era sfuggito effettivamente agli adulti forse la scusa che trovano di più il motivo per cui non danno tanto ascolto ai figli è proprio il tempo la mancanza di tempo oggi i genitori non sono più quelli di una volta in cui si stava a casa si aspettava il rientro di figli da scuola purtroppo mamma e papà per necessità entrambe lavorano quindi insomma c'è questa difficoltà di tempo un consiglio tu da mamma forse giovane da insegnante il tempo se si vuole si trova vale la cosiddetta qualità piuttosto che la quantità sicuramente sicuramente perché è necessario dover lavorare quindi comunque siamo figli dei tempi non siamo alienati dall'epoca in cui viviamo ma questo non ci deve sicuramente giustificare dal fatto di dover trascurare i nostri figli e abbandonali a se stessi se si vuole il tempo per amore si trova e poi davvero la bellezza salverà il mondo esatto grazie grazie Luciano noi ci ritroviamo ovviamente con le linee pastorali da seguire gli orientamenti pastorali a proposito di emergenza educativa speriamo di rincontrare anche Alessandra grazie a te buon lavoro con i tuoi bimbi grazie Luciano grazie